E da questa esperienza mi porto a casa tanto, soprattutto tante riflessioni, forse domande che non sono riuscita a fare, ma sicuramente tanto. Penso che un teatro del genere possa aiutare anche tanto a capire il vero senso della filosofia per non rimanere chiusi semplicemente tra un paio di pagine di libri. Sicuramente è un'esperienza che consiglio a tanti e davvero è stato davvero davvero bello, anche perché è fuori dai canoni, non è come ce lo si aspetta. Invece a me la filosofia non piace tanto, però questa esperienza del simposio mi ha fatto capire che è un aspetto importante per la vita.